Allora, troveremo un angolo per fare questa cosa e quest'angolo sarà... così. Dangerous, dangerous, dangerous idea! Sto facendo lo schemino con i film che mi sono piaciuti, i film che... e i film che... Se fosse un po' più grande sarebbe uno sfondo decente, ma... Hey, that's what we get! Hello, guapes! Welcome al terzo giorno di una maratona da Oscar. Siamo dentro da tre giorni e già ho preso il conto. Eccellente! Oggi, come si può evincere dal mio look sfavillante, parleremo di trucco, parrucco e costumi. It's called passion, darling. Look it up! Partiamo dai costumi perché, per quanto riguarda il trucco, c'è il vasto argomento del fat suit di The Whale da affrontare e ho bisogno di cinque minuti per parlarne, quindi... Partiamo con i vestiti. C'è ben poco da dire quest'anno. Niente è notevole! A parte la rara eccezione, che è sempre rappresentata da Everything, Everywhere, All At Once. Il candidato che ho messo in quinta posizione per i costumi è Babylon. Non metto in dubbio la quantità immane di lavoro che i costumisti hanno fatto per Babylon, perché sì, i personaggi principali sono tre e mezzo, tre e tre quarti, ma la quantità di comparse che c'è in questo film è aberrante. Essenzialmente Babylon è un colossal sul cinema. Come puoi notare nella lista dei piaciuti non c'è Babylon perché qui, beh, ci ho messo quattro giorni per guardare Babylon. E non perché dici, ah cazzo dura tre ore, non hai avuto tempo, no, non ho avuto la forza. È un film atroce. L'ho anche letto descritto come una lettera d'amore alla classica Hollywood. No bitch, it's not. Cioè letteralmente parla di come Hollywood rovina la vita delle persone da quando esiste Hollywood. Non è una lettera d'amore. E se è amore, è amore tossico. Un po' come quello che c'è effettivamente tra Manny, che è il protagonista, e Nelly, che è un personaggio interpretato da Margot Robbie, che si meritava un film migliore. Perché sinceramente la scena del serpente vorrei poterla rimuovere dalla memoria come in Eternal Sension of the Spotless Mind. Stavo pensando che potrei fare dei mini video di recensioni singole dei film perché tipo Babylon andrebbe approfondito, The Whale andrebbe approfondito. Però se stiamo qui a parlare solo di costumi, ok, la ricostruzione c'è ed è tanta. L'unico vestito iconico, tra virgolette iconico, anche perché è nella locandina del film, quindi probabilmente è l'unico vestito di Babylon che la gente vedrà, perché io sinceramente sconsiglio la visione di Babylon, è quello rosso di Margot Robbie, che essenzialmente è una sciarpa avvolta attorno al suo splendido corpo. Tutti gli altri, non lo so, non avevano niente di memorabile. C'è anche un altro personaggio, di cui nemmeno mi ricordo il nome. Lei è fighissima, ha un sacco di vestiti belli, ma se ti devo dire uno di quelli non me ne viene in mente nessuno. Cioè mi ricordo che erano belli, però non è che mi siano rimasti più di tanto impressi. Quello rosso rimane impresso, soprattutto se sei fan della vecchia guardia di Resident Evil. Ricorda tantissimo il vestito di Alice nel primo Resident Evil. Poi tocca anche dire che la maggior parte delle persone in questo film è in doppio costume, perché appunto è un film sui film. Quindi spesso vedi appunto Margot Robbie o Brad Pitt e tutti gli altri con i costumi di scena. Ci sono un sacco di eccezioni, tipo quello della Celebelli ma scena. Pier, tu rischi la vita! Uno dei motivi per cui non mi è piaciuto Babylon è che sembra che Damien Chazelle abbia perso una scommessa e abbia dovuto pescare due titoli da un cappello e farci un film mescolandoli. E per troppo per lui, o forse finalmente, perché è evidente che a Damien Chazelle andrebbe di dirigere un horror, i due titoli che ha estratto sono stati Cantando sotto la pioggia e Salò. Cioè, altrimenti non si spiega la nascita di Babylon. Fate dirigere un horror di Damien Chazelle, evidentemente non vede l'ora, lui vuole fare un film alla Eli Roth. Babylon sembra Cantando sotto la pioggia diretto da Eli Roth. E questo secondo me è un insulto. Andiamo avanti. In quarta posizione ho messo i costumi di Black Panther. Perché, ok, le technical suit le avevamo già viste, sono ovviamente upgraded, non mi viene il termine né per technical suit né per upgraded. Salite di livello e ci sta la Marvel i costumi da supereroe. Li sa fare, ormai il suo brand, diciamo. Mi sta cascando addosso sta lavagna un po' inquietante. Quando mi alzerò avrò tutto il gesso sulla schiena, come a scuola. Non più, adesso non c'è più il gesso a scuola. C'era un mio compagno di classe che ha evitato non sai quanti interrogazioni dicendo che era allergico al gesso. al punto che un giorno la nostra prof di matematica si ruppe il cazzo e comprò un bastone a ciò che lui potesse usare il gesso senza toccarlo. Era molto umiliante e molto divertente allo stesso tempo. Per noi, non per lui. Dicevo di Black Panther che sì, le parti supereroistiche mh, come costumi, però, spoiler, non spoiler, i vestiti che indossano durante le cerimonie funebri sono bellissimi. Proprio, proprio belli. Purtroppo le scene... Purtroppo, oh mio Dio! Per fortuna le scene di funerale in Black Panther sono due e non 85. Se fossero 85 ci sarebbero tantissimi vestiti bellissimi e io sarei molto più felice. Aggiungerei non solo i vestiti ma anche proprio i gioielli, gli accessori che indossano i funerali. Ovviamente i costumisti hanno preso ispirazione alla cultura tradizionale africana e top. Bellissimo. Non ce n'era abbastanza secondo me, ma... Ok. Mi sono piaciuti un pelarino di più i vestiti di Elvis. In particolare, e c'è anche nel trailer, quindi forse ti sarà capitato di vederlo, il suo completo rosa. Vabbè, in realtà cosa non mi è piaciuto di Elvis? Ho amato ogni minuto di Elvis. Elvis è effettivamente qui. Lo puoi vedere nei piaciuti. Beh, ovviamente c'è tanto di quel materiale su Elvis. Elvis persona realmente esistita. Che deve essere stato facile come lavoro. Forse è difficile selezionare perché lui ha tanti di quei costumi super iconici. So che è una parola che può risultare fastidiosa però Elvis è un'icona. Cioè, è un po' come Freddie Mercury con la canottiera bianca all'Ive Aid. Cioè, tu pensi a Freddie Mercury e te lo immagini con la canottiera bianca e forse col mantello. Elvis pensi a lui e te lo immagini con la banana e con le maniche enormi, i pantaloni a zampa e tutto pieno di brillantini. Ed è questa la definizione di icona. Nome che è facilmente associabile ad un'immagine che è solitamente uguale per chiunque conosca il nome. Non mi sono rimasti altrettanto impressi costumi femminili anche perché quel film è molto più concentrato sul personaggio di Tom Hanks che su chiunque altro. Persino su Elvis paradossalmente. Elvis è sicuramente più appariscente di chiunque altro in scena però il film non parla solo di lui. Non parlando così tanto delle donne della sua vita i vestiti delle attrici li ho totalmente rimossi. Sarà che l'ho visto anche parecchi mesi fa ormai questo film? Dovrei rinfrescarmi la memoria e lo farò molto volentieri. In seconda posizione ho messo un film che non ho visto perché sinceramente spendere 5 euro per noleggiarlo su Sky non mi va. Sky costa un culo perché devi pagare anche di più per avere un altro film? No. Ho guardato le immagini perché tanto è candidato solo per i costumi quindi ho guardato le foto dei costumi e oh mio dio i costumi della signora Harry Sva a Parigi. Il vestito bianco e nero il vestito rosso il vestito verde. Cioè io ieri li guardavo e penso che mi sia uscita un attimino la bavetta perché so che non si capisce guardandomi ma io impazzisco per i vestiti in particolar modo per i ball gowns e questo verde oh oh mamma oh mamma yes delicious la cosa che mi dispiace è che non sia stato candidato Don't Wear Darling so che non è piaciuto praticamente a nessuno io l'ho amato se ti interessa ho fatto la recensione in un episodio del podcast Casino Carcosa c'è un vestito nella storia della moda uno che è il June On Dress di Dior quel vestito secondo me è una benedizione che le fate hanno fatto all'umanità cioè palesemente Titania in persona è andata a guidare la mano di chi ha disegnato il June On Dress e in Don't Worry Darling c'è un vestito ispirato al June On Dress è bellissimo ce l'ha addosso Olivia Wilde le sta benissimo e tutti gli altri vestiti che indossa Florence Pug sono una cosa non dovrei soffrire sul microfono sorry really really non è stato candidato Don't Worry Darling non vogliamo candidare gli horror non vogliamo candidare i thriller non vogliamo candidare i lavori fatti dalle donne ok però porca miseria è assurdo è assurdo abbiamo candidato avatar alla scenografia e avatar alla scenografia non ce l'ha quest'anno è tutta una soledità le categorie concentriamoci su chi ho messo in prima posizione perché di nuovo mi mangio la bombetta per everything everywhere all at once è tutto bellissimo in everything everywhere all at once perché non è candidato agli effetti speciali io ti giuro voglio fare un tatuaggio qui del bagel e qui del googly eye li voglio se hai visto everything everywhere all at once sai perché everything everywhere all at once se non l'hai visto guardalo innanzitutto se te lo devo riassumere parla del multiverso della teoria secondo la quale ogni volta che tu fai una scelta si crea un universo in cui tu segui quella scelta e un altro universo in cui hai preso l'altra tutti questi universi esistono tutti insieme contemporaneamente il film parla di persone che hanno la capacità di attingere da tutti questi universi trasportare elementi dei diversi universi in altri universi in particolare c'è un personaggio che ha tantissimi una quantità allucinante di cambi costume e a volte sono normali tipo c'è una volta in cui è vestito da un golfista e a volte sono absolutely wild se l'hai visto mi riferisco a quel di questo non voglio mettere le foto perché sono spoiler mi riferisco magari a quello dei peluche a quello verde a quello bianco capiscimi se l'hai visto e minchia la creatività non solo la quantità di lavoro che c'è dietro ma la creatività la possibilità di creare senza freni perché non è candidato anche per il trucco me lo chiedo perché appunto nell'ultima scena del bagel quel trucco che ha che sembra un quadro di Picasso tutte le cose particolari che le hanno fatto con le perline con i brillantini che trucco pazzesco che trucchi pazzeschi che capelli pazzeschi cioè cazzo perché non l'hanno candidato anche per il trucco i capelli non capisco non capisco doveva avere altre due candidature 13 candidature dovevano candidarlo anche come miglior corto animato perché dentro everything every world once ci sono anche i disegni io darei tutto questo film gli darei anche il mio gatto anche qui c'è un ball gown che è una ro mi viene da mi sono anche appannati gli occhiali mi viene da piangere se penso quanto cazzo è bella mi scegli io con quel ball gown ball gown abito da sera abito da ballo non so come si può dire in italiano meravigli cioè lei vabbè lei è meravigliosa sempre punto però quel vestito è un sogno mi auguro veramente che vinca everything every world at once però non so sento come una vibrazione nell'aria che darà il premio a babylon e io spero di no perché a margot robbie hanno fatto mettere quel vestito azzurro quello della scena alla festa quando racconta la barzelletta atroce poi fa macello quel vestito è orribile cioè ci pulirei il pavimento con quel vestito prossimo capitolo trucco ai capelli l'ho già un po' infilato io il premio lo darei a everything everywhere ma non è candidato è candidato invece niente di nuovo sul fronte occidentale trucco ai capelli cioè capelli corti perché i personaggi sono tutti uomini che hanno a che fare con la guerra e il trucco è le ferite allora è molto molto intensa la scena che penso sia anche nel trailer in cui il protagonista ha tutta la faccia sporca di fango quello rientra sempre nel settore del trucco è molto intenso il fatto che appunto lui sia completamente marrone e abbia questi giganteschi occhi azzurri che guardano disillusi e sconvolti verso il cielo intenso molto però da qui a dargli un premio non lo so con mio sommo dispiacere ho dato la quarta posizione a batman perché ok sexy roberto procione con gli occhi tutti neri alla my chemical romance pinguino è orribile cioè con tutto il bene che posso volere a pinguino che è poco cioè non gli voglio bene è una merda quel naso non sta né in cielo né in terra cioè a sto punto era veramente più figo il trucco di Danny DeVito in quel batman il ritorno mi sembra che ha pure vinto l'osso no era candidato all'oscar mi sa che quell'anno vinse la vita è bella la vita è bella la morte ti fa bella è il contrario ho sbagliato Zoe Kravitz è meravigliosa sempre in batman le varie parrucche che le hanno messo il trucco da good girl gone bad che è andata a una festa di troppo si sta è figo le sue unghie non lo so non mi hanno del tutto convinta le sue unghie sono molto contenta che sia stato candidato io non vedo l'ora di avere la deluxe box di batman con scritto il tre volte candidato all'oscar the batman e chissà magari anche vincitore di qualcosa non lo so non penso che vincerà qualcosa però fosse per me sì fosse per me vincerebbe miglior film no non è vero vincerebbe everything everywhere at once però non ho non ho potere decisionale in questo purtroppo ecco non premierai batman per il trucco non premierai nemmeno elvis cosa hanno fatto in elvis cioè hanno preso austin butler che è un bellissimo ragazzo e gli hanno messo un po' di mascara per farlo sembrare elvis che era un bellissimo ragazzo hanno dovuto modificare parecchio il viso di Tom Hanks ed è ovviamente un lavoro fatto molto bene però non lo so io per la categoria trucco e capelli apprezzo non solo la qualità ma anche la quantità di lavoro perché se in un film ci sono 10 20 30 personaggi e solo uno ha un trucco notevole o dei capelli notevoli mi sa esagerato premiarlo non so se ha senso questo discorso però è il motivo per cui ho dato la prima posizione a Black Panther perché a differenza della questione vestiti belli solo al funerale i capelli soprattutto i capelli sono bellissimi tutti sempre e ci sono tanti di quei personaggi in Black Panther da aver dato la possibilità a chi si è occupato dei capelli di sfogare tutta la propria creatività è figa anche Okoye che è pelata persino un personaggio calvo è reso figo a livello di decorazione della testa quindi forse per me vincerebbe Black Panther solo stavolta però un po' come l'anno che ha vinto Suicide Squad ma noi non parleremo di quell'anno è stato un anno oscuro ora parliamo di The Whale mettiti comodo ho letto di tutto e di più e non voglio assolutamente sminuire il dolore che ha provato chiunque si sia sentito offeso da The Whale perché sì a livello superficiale è un film con un personaggio infinity fat è una condizione particolarmente diffusa e sensibile non è un tema da trattare con disinvoltura e questo film è vero che tratta l'argomento obesità male è vero che il corpo di Charlie viene esposto un po' come un freak show tutto il film è molto crudo spietato crudele gli altri problemi vengono trattati meglio di quello medico e fisico la questione è che The Whale non è un film sull'obesità è un film con un personaggio obeso cioè lui poteva avere qualunque altro problema poteva essere paralizzato poteva essere agorafobico poteva esserci qualunque altro motivo per cui lui doveva rimanere bloccato in casa il punto è che questo è un film che è così ispirato a Moby Dick al tema dell'ossessione da essere quasi un simbolismo automatico i titoli sono importanti ok quindi se il titolo del film è The Whale tu lo devi usare come chiave di lettura cioè noi non ti stiamo parlando di una balena nel senso di parola offensiva per definire una persona molto sovrappeso ti stiamo parlando di The Whale per dirti concentrati su Moby Dick ok cioè le prime parole del film sono su Moby Dick è molto importante il tema che la figlia di lui ha scritto su Moby Dick torna tantissimo ne parlano tantissime volte quindi ragiona un attimo su questa cosa prima di concentrarti solo sulla rappresentazione sbagliata superficiale forse dell'obesità la parte importante di The Whale è che parla di una persona che sta soffrendo per il suo grande amore perso che da quando ha perso il suo amore non sa più dove deve stare e quindi si è incagliato sempre ritorna al linguaggio marinaresco cioè per quanto la parte del presente sia una rappresentazione negativa di chi ha disturbi alimentari lui è comunque presentato come un uomo che si è sempre stato grasso ma è anche sempre stato attraente cioè sua moglie nonostante loro si siano lasciati da tempo e lui l'abbia fatta soffrire lei lo ama ancora il suo compagno era perdutamente innamorato di lui perché è una persona buona è un uomo generoso è un uomo intelligente è sensibile è divertente quindi ripeto non voglio dire no non vi dovete offendere per The Whale ognuno può essere offeso da quel che ritiene degno della propria offesa voglio solo invitare ad una lettura più globale della storia il fat suit di Brendan Fraser a livello tecnico è fatto molto molto bene sembra un corpo vero molti hanno detto è sbagliato prendere una persona normopeso o sovrappeso e mettergli un fat suit per fargli fare un film true anche Jamila Curtis porta un fat suit in everything everywhere all at once lei è una donna molto magra è sempre stata incredibilmente in forma in everything everywhere all at once ci sono delle scene in cui lei è panciuta e scene in cui è più sottile quindi ha senso usare il fat suit in questo tipo di occasione perché non puoi dire a un attore ok per le tali scene devi pesare 40 kg poi però tra due settimane ne devi pesare 91 perché devi essere un po' più grassa ok no no non è fisicamente fattibile uno dei casi in cui Hollywood ha gestito bene questo tema è stato per Holes buchi nel deserto non so se l'hai visto è molto carino il protagonista era un giovanotto Shia LaBeouf che deve andare in riformatorio però un po' diverso dal solito deve andare in questo deserto a scavare le buche per motivi se non l'hai visto non te lo dico però è molto carino nel libro da cui è tratto Holes questo ragazzino all'inizio era grasso e alla fine dell'estate dopo aver scavato mille buche nel deserto è magro anche nel film volevano fare questa cosa ok prendiamo un ragazzino grassottello poi gli facciamo fare palestra così alla fine del film è magro e la produzione ha detto bitch no cioè no non è sano come non è sano che Ethan Hawke o Christian Bale o Matthew McConaughey abbiano perso chissà quanti chili ho preso chissà quanti chili pensa a Bale in Vice mi veniva vicious più o meno anche Jared Leto era ingrassato per film e dimagrito per film Jack Bates fa malissimo questa cosa fa male 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 cioè se tu casti un attore perché è bravo perché si merita quel ruolo è capace ha capito il personaggio e lo farà benissimo non bisognerebbe pretendere un cambiamento di peso né in meno né in più quindi se Brendan Fraser è stato scelto in quanto bravissimo attore e in The Will ha fatto un lavoro pazzesco nonostante il film non sia un granché soprattutto a livello di sceneggiatura è troppo teatrale ok è tratto da una pièce teatrale ed è stato adattato per lo schermo dall'autore della pièce teatrale sono due tipi di linguaggi diversi non andrebbe fatta questa cosa un esempio particolarmente felice è stato The Father però solo perché è successo con esito un paio di anni fa non vuol dire che ci possiamo riuscire a farcela tutte le volte The Will non è scritto molto bene sorry però Brendan Fraser ha dato l'anima evidentemente chi ha fatto il casting se n'era accorto che Brendan Fraser era capace di fare questo film gli hanno dovuto mettere un fat suit perché non potevano chiedergli ok arriva a 250 kg entro maggio sarebbe stata una cosa malsana e ridicola come richiesta ora non so se quando è stato fatto il casting call si siano presentate persone effettivamente infinity fat quella già sarebbe un'altra domanda ma quello è un difetto del sistema a monte è un discorso tosto già si potrebbe parlare per ore di questa cosa io mi ero detta quest'anno i video falli corti perché hai 12 giorni per pubblicarli e già ne ho perso uno yuppidù però ecco se vuoi approfondire il discorso The Whale scrivimi qui su Instagram dove vuoi mi fa piacere that's it ci vediamo domani con uh è già una delle categorie grosse attrici protagoniste e di supporto ti parlerò molto di everything everywhere at once preparati love you bye